Quanti un casino avanti e non guardavano dietro io facevo il giro passando dalla strada lunga a sinistra c'era per a spawni da terrorista vai dritto per dritto E abbiamo visto tutti i round da terroristi così Cioè io andavo dritto, uscivo dal coso e iniziavo a sparare e tutti e due morti gente Il mio alleato ovviamente moriva subito Invece counter terrorista io mi piazzavo con le WP E facevo le kills E ho anche fatto tipo 3-4 kill con l'SMG Con l'SM8 Lo scout Ah madonna mi sono cagato addosso Eh come faccio a sapere se è cadena? Vabbè L'ho trovato su youtube da l'alta adesso Ma in modalità zombie, gli zombie possono usare solamente i pugni o anche le armi? Cioè? I zombie, nella modalità zombie di... No, solo pugni Si possono fare il team da 10 per persone, che figata Non lo so se Carlino sta guardando o no Carly se devi scrivere qualcosa scrivimelo su whatsapp Ehi, ehi, vai c'è ne, vai c'è peé Poro, poro, quindi Oh i, oh ah ah Se, facciamo squad o duo? Ehm, è il stesso E io miassi? No, iniziamo con due a te. Poi facciamo scuole di una squadra in te seri. Paffaffan... ok si è finita di caricare dove si va? appena... aspetta mappa vecchia? no non lo va ma non è vero ah bugia vediamo da dove va l'aereo non è vero cavo militare è sotto di noi peccato lo facciamo? è peccato vabbè ormai io è peccato e se andiamo a valle del mar peccato valle del mar vabbè peccato cacca cacca no lo sto scherzando andiamo a peccato valle del mar la drillera che cacchio è stacomai non l'ho mai vista quindi voglio andare a vederla vabbè no è la versione come si chiama della mappa vecchia di gram chich cacca chi si chiama quel posto tipo con quattro case che ha un nome per qualche strana ragione si Sì, dico che sei solo invidioso da quanto lutto puoi trovare là. Mi piace che immagino adesso è pieno di lutto veramente. Cioè no, aspetta, io sto sbagliando città. Andando a Montenuevo? Eh sì. Non sembra esserci niente qua. Montenuevo ce ne sono due. Vabbè. È intorno a noi, ce ne sono due. In questa casa è qua, tipo. Ma dov'è qua il loot? Ah, ecco. Ok, sì. Eh, buona fortuna a capire dove sta il loot, cioè... Beh. Ho trovato puntato alle laser, pistola... Io non giubbattavo la polizia, ma... Fdp non mi serve, ma lo prendo comunque. Magari. Lo trovo in Fdp. È a livello 1. Ho gioco tanti proiettini, è normale. Ho oggetti. Un auto per? Che poi ci sono 50 case e sei venuto da qua. L'ho trovato per... Però non ho armi. Con la pistola va. Eh, ti ricordi la partita qua? No, aspetta. Conti ho dovuto sacrificare. No, no, Davide, sei morto. Sei morto. Sei morto, non ti posso rialimare. C'è la zona. Mi sa che fotevo, eh. Ops. Oh, era un errore di calcolo, succede a tutti. Ma minchia, la faccia è l'errore, gabbè. Quale è il numero tra 2 e 5? 25. Cioè, roba del genere. Io ho trovato davvero un FTP, wow. Ma che poi, non so perché ti ho sparato, sinceramente, vabbè. Kill. Ah, per prenderti loot, per cobermi. Eh no, non me l'avevo preso il loot. No, l'avevo preso quello dell'altro. Eh ya. Ti ho scelto senza senso allora. Me lo ricordo perfettamente, ma l'avevo preso il loot. Perché io ti avevo detto, guarda che io ero pieno di medikit. Eh, me l'avevo mai detto. Era un mio genere il discorso. Eh, ma che cagata di partita era. Perché non trovo un cazzo. Perché non si è in questo paio. Vedo te la tua micro-ozy dove sta venutando tu? Venga da. Venga da, usino, usi. Uh, intene è 4x. Io non c'ho anche l'altro. Li uniamo e facciamo un altro 8. Ah. E quindi andiamo e facciamo il 16 Porca puttana Ma qua è Luca la videochiamata di gruppo Quindi al cartello Rispondo dopo Oh una Uzi Guardami fottimi Guardami fottimi Era pure una macchina Lo sono visto Cazzo E mi sa salgo sopra Non ho visto nessuno Un M4 C'è un M16 Ah se voi c'ho l'M416 No va bene l'M16 Ho controllato le stats e sono uguali Voi dipende Allora lo SCAR e l'M16 sono uguali Praticamente in ogni cosa Solo che ovviamente lo SCAR ha più attachment possibili E invece Cambio lo spray E io preferisco lo SCAR per quello Sì è lo SCAR ovviamente è meglio E l'M400 Aspetta aspetta perché siamo nella zona? Ma che cazzo No siamo fuori dalla zona Siamo dentro Ma che cazzo Bugga Vabbè sarà un bug infatti Perché non c'è ancora la zona rossa su di noi U Mi fa solo per dire adesso si arriva alla zona rossa allora Lo vuoi il WSS? WSS aspetta Quello silenziato Ma che merda no? È fortissimo Best weapon in the game Forever and ever Perd Guarda preferite il win Ah vabbè il winchester è buona come arma Dai Non troppo Però è buona Ah c'è la UMP Allora il winchester è meglio di una pistola Il Oddio Invece il coso Ce l'hai il FTP? No Non ho l'ho perfetto Non li prendo gli attacchi Anzi Prendo un impugnatura verticale per il coso E416 Se tu puoi per il mitra tieni Mitra? Sì E che ha senso per il mitra aspetta? Ho la UMP Ah ok Vabbè anche io ce l'ho Ma Balla K E' 80 io Caricatore stessa pistola Tu puoi prendere anche il set 62 Ah merda E' sempre il sogno Ah comunque ho modificato tutti quanti i tasti diciamo Praticamente Ma io quello l'ho conto quanto tempo fa l'ho proprio fatto Quindi tutti 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 Tipo i tasti per sporgersi Sui così del mouse Ma che chiesto Ad esempio tu Il tasto per Come si dice Per 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 Orda non mi viene in mente Diviso No Ehm Ma vai senza toro Non mi ricordo che cazzo stavo pensando bene È vero per switchare di posto al primo posto diciamo nella macchina Che tasto hai? Control 1 Oltre a quello io ho messo un altro tasto Cioè che è geniale da mettere Shift W No Direttamente quando sei in macchina Se la puoi guidare Non sei in Detto Si preme control 1 Devi strecciare un pochettino Premi shift W Che è stato saresti i tasti che premeresti Sono i tasti che premeresti normalmente per andare avanti Vabbè Ah Sei un genio incompreso No in realtà l'ho letto su internet Eh infatti Ehm c'è un Un coso qua Io? Come si chiama? La padella No merda Ho attaccato il silenzatore sulla microusi È più grande dell'arma La faccio del micro C'è gente c'è gente Verso di me o verso di te? Verso di me Ah laggiù Uh Ah ma proprio sopra Merda Ma sono già alto piano oppure sono in basso? Mezzo al mio piano Troviamo più verso di me Io sto salendo Oh chi sei? Poi ho l'altro Angelo Ciao Angelo Ciao Uno eschi yes Non luttare cazzo c'è gente Lo sto guardando Non lo vedo più Manco io È andato verso 70 70 70 Ah che è l'iPhone 70 Posso? Non c'è di sicuro Ah ma capa Mille? Merda mia Arrivo Che è sparata di merda che c'ho Sono Sono città 10 Con la casa La prima casa 10 Adentro Dentro Eccoli Dov'è che sono? È uno dietro il curetto Merda non posso attaccarlo Uno è dentro la casa Tecnica finale Granate Non ne ho granate Merda È uscito uno Verso lo stadio È dentro lo stadio Ecco l'altro Ecco l'altro Non lo vedo Non lo vedo È dietro un muretto Sono morto Wow Aia Vieni qua Vieni qua Vieni qua Veloci Sono bravi Che mi hanno disciutato Da quella distanza Ah vabbè Sarà che lui Ha la possibilità Di usare un 8x Cazzo Sono bravi Ci conviene cambiare tattica Buttiamoci senza senso Non lo Ha più senso Come tattica Uros Ovviamente stanno facendo il giro Allora voi impugnate La verticale Ancora meglio Dov'è la padella? Le protezioni in più Eccola Ma stai seriamente Cercando la padella Quando questi Ci stavano uccidendo Adesso l'ho presa La padella E l'ho cercata adesso Stavamo andando Quindi la cerco No Non ce ne stiamo andando La mini Merda Millie Ma come cazzo Sto sparando Madonna Sto facendo schifo Sparare oggi Io ho preso la mini Ora li perco Ma sono ancora là o? Mezzo Uno è dentro lo stadio Uno È nella casa qua basso 55 65 Madonna Non riesco a sparare Zero Ma si spara da quello Dentro la casa o quello allo stadio? Ecco Guarda sai cosa faccio Sai cosa faccio? Oh yeah Tieni lì d'occhio eh Uno è vicinissimo Io non ne vedo neanche uno Ah eccola qua sotto No mi è cresciato il gioco Appena ho sparato Wow Sei ancora fermo lì? Non lo so Penso di sì Eh sì ma Fammi uscire Dov'era l'altro? Non lo so Io stavo sparando A quello sotto la casa Madonna Non riesco a beccarli Io che sono coperto Eh non ti stanno sparando Quindi sì No non riesco a sparare Zero Vaffanculo Siamo ucciso Uno è morto E anche io sono morto Beh uno per uno Eh tu sei morto lo stesso Perché sei FK Ma perché? Siamo arrivati da dietro o da come? Sono pushati Ah No è rip Davide Counter strike Chiede lo spettatore Chiede lo spettatore Sei ancora vivo? Davvero? Sì Ce l'hai a destra per una spawn Ok ti ha visto Si sta sparando con molta calma Ok Io ormai ho già chiuso il gioco Dai facciamone un'altra Mi crash ho sentito Dai mi schieno il cardino che ha Non lo voleva vedere il CSGO È sicuro Chiediglielo Chiediglielo Se fa una donazione Continua lo pubgi Si Come no Allora io continuo a giocare Vabbè le apro Mi si è graffiato il telefono E' più in pizza E' più in pizza Deja vu Ma che mi esce la cosa Che il mio game sta continuando Ma non so neanche se c'è ancora Carlin Ah è bella C'è Cosa? L'ha scritta nella live chat di YouTube E' cosa ha detto? L'apro la live chat di YouTube dal telefono Allora Ci sono Non vuole Non vuole Contraico No Ah ok Eh ma l'ha scritta Alle 22 18 Dai se a questo Arriviamo Top 10 Giochiamo Un CSGO Top 10 giocatori rimasti O top 10 totale? 10 giocatori rimasti Non era troppo facile Non era troppo facile Deja vu Ah anche a Carlin è morto What? Boh non sta ne scrivendo nella chat nel suo whatsapp Presumo sia morto Ok ha scritto ce ne sono pure ora Why not? Dove andiamo? Why not? E vabbè ovviamente dipende da dove si chiama Che giro fa Io direi uno degli ultimi punti Sai perché? Perché sto giocando la parte scia io Ah E niente come un'umanità Vale del mar Oh poi Perché quelle casette di merda Dove sono andate prima Mi fanno che che Quel possaccio di merda E intanto ho trovato roba Vabbè anche io Vabbè anche io Ok Cioè oggi non riesco più a sparare Quindi Mi si Ma io voglio scendire Andiamo Val del mar Val del mar Val del mar Andi Io vabbè io provo ad andare a mina del sur A sto punto Volando Ah vabbè allora anch'io Ah merda Devo concentrarmi su questa Particata Cazzara non ho persa Vabbè Ah non fa scendere più di così Merda C'è un FK Anzi no non c'è più un FK Ma sai cosa faccio? Io lo apro ora Ah proprio ci vuoi arrivare con tutti i costi Io vado Vale del mar Vale del mar Non me lo è nessun altro Ho fatto una grandissima cagata Oh guarda Ma quanto cazzo ho sul letto Oh merda c'è un tizio anche qua Merda sono due qua Vabbè va Guarda dove sono io ancora Vabbè guarda che c'è altri due a fianco Quindi non sei l'unico ad aver avuto quell'idea Eh ma guarda dove sono ancora Può essere un'idea stupida ma non sei l'unico Oh te li spottero fra te Eh è vero vai 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 Sono nella casa di fronte alla chiesa E l'altra è nella casa dopo Ok ok Buono 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 sta minchia che sono molto in ritardo Mentalmente proprio sono in ritardo Ah merda non ho la doppiata se non li avrei lasciati La raci di doppiata è sempre la tattica più safe Uh fuce la pompa Andiamo Ah dove sei disceso? Ah si è anche tu qua Andiamo subito Io sto lasciando Sto andando Ah ok ok Eh ma io sono lontanissimo Vabbè ne spotterò uno da solo spero Se sono in case separate Eh non è detto eh Dalla finestra Io ho solo fucile a pompa Ok io ho Io ho fucile a pompa e a revolver Non c'è nessuno Ok qua non sono venuti Sì No questa porta da fuori Sto arrivando Eh merda non so se ho prendermi cruiser o winchester Son qua eh comunque Letteralmente da te o No no la dove ho puntato Ah aspetta Oh ok Un po' fuori no Cosa ti prende il winchester? Ma vado 10 Uh Son data No ho trovato un laser Cosa è questo? 5.56 Buono No questa cazzo mi serve Sto arrivando eh Io non li vedo Il punto non è che non li vedi tu Son loro che non devono vedere te Ah ma il m4 Dove? Mi ha visto Mi ha visto Mica mi ha visto Dove 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 Non lo so Mi ha sparato dove hai puntato tu Mi ha lisciato di brutto la testa Con una A un car Ok lo sento lo sento lo sento Lascio qua sopra Iiii corro 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 non parli Non è che sulla chiesa Non li vedo Non li vedo Non li vedo Potrei sentire dei passi fuori da casa mia ma non c'è nessuno Sono io forse No no se non tanto Così tanto non li sento Che non c'è il volume di gioco così alto Se no mi spacco le pomme le orecchie Posso vedere se li spotto da qua dal bagno Però se mi spottano prima loro Cazzo Ora c'è un'arma decente Oh merda A te o hai sparato a casa? No io ho sparato a loro e l'ho mancato Arrivo Eh sta attraversando verso a sinistra comunque Chiudo la finestra Eccolo Uh lo sento Oh Eccolo sono sopra Uno è sopra E' sopra Uno mi sta pushando Eccolo Oh Oh Posso uso la revolver Eh Con la revolver sono più preciso Aspetta Allora Ho colpito una volta con la revolver E altre con altre armi Merda però non ho cure Oh Madonna Cure? No eh Non lo vedo più lassù Oh merda Ho tirato con la sbagliata Hai protetto Hai protetto Hai nascosto il suono di me che scava il cavo Bene Non lo vedo Sto cercando Oh Buono Ho una per arma di distanza Ti vuoi muovere Io non so dove sono loro Per questo Per questo non sto uscendo Dove? Eh Secondo me sono ancora dentro Con la cosa blu Pado andare verso di qua Eh si Ok Si Oh la padella No Che cazzo c'è il macetto Si dove? Si dove? Eh 240 E' ancora lì Ma è su o giù? Eh su Su Secondo piano circa Sono uscito Merda Mi ha Mi ha ucciso Sono ancora lì Eh E' al secondo piano di quella casa blu Si è ancora lì Merda Secondo piano Ma facci lasciando ragazzi Te ne avrai E' al micro uzi A gara uzi Oh merda L'ho visto A gara uzi Non uzi Basta che non ti fermi a mirare Spari no scope Eh su Eh su Ecco Uh Uh L'altro Corri via Cazzo La bagassa mia Top 20 vale L'affanculo Merda io non pensavo che scendesse giù Ma io non lo vedevo Mi sparava non capivo da dove Poi ho fatto malissimo io Non riesco a giocare No Io speravo che la tecnica Butto giù uno Il tipo va a salvarlo Funzionasse Sì infatti Lì andava a salvarlo Io intanto ero giù E risalivo No dovevi sparare di più Appena uccidevi Risto di sparare con altri due colpi Così era in fin di vita E l'amico doveva decidere Se Fare la kill O salvare il suo amico No non avevo più colpi Ah non se ne avevo ancora più colpi Eh però sono abituato a fortnite Dove quando tu atterri qualcuna Tipo Uno o due secondi di immunità Che cagate Dino merda Boh Dissi impesante Però fortnite è una cosa che Player non batte in grado Non ha Cosa Se ti sparano Su player non batte in grado Sei all'aperto Sei fottuto Su fortnite Se sei skillato Ti puoi proteggere Costruendoti intorno Che cagata Ci sarà Ci sarà un motivo Per cui È all'aperto Uno che all'aperto Dovebbe essere meno avvantaggiato Io non ho chiuso Infatti No infatti Ma però Ma però Vabbè Però Fortnite sta presa qua Perché la mappa è Quindi ogni caso Le persone si ammazzano Sì C'è quello fa E anche perché almeno Se non lo dura troppo La partita Cioè che cazzo No Ma 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 È andato Eh cos'è il primo Ors Eh infatti cos'è Eh si paracadutiamo ora C'è appena scendiamo paracadute Mi so veramente appena scendiamo paracadute O prendiamo una macchina non lo so Boh mi dipendeva come la macchina Lei che c'è il rendering più alto Vediamo se riesco A vedere una macchina così al vol Io paracaduto No sto scherzando Mi cerca una macchina No Mi cazzo st'ammazza se lo tagli C'è gente da te Quattro persone Oh 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 Due Ma c'è una casa c'è qua È più di gente qua intorno C'è letteralmente una casa Meno male che io sto scendendo qua in fondo Nessuno Nessuno ha la fotografica geniale Di usare le paracadute E scendere qua in fondo Adesso mi sparano col cecchino Oh Tutto bugato Perché io sto andando qua Come mi sparano col cecchino Appena trovato qualcuno Poi cerco PUBG Aspetta 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 ma non ho trovato nulla stigato io ho trovato l'arma nuova cosa? qua è l'arma nuova c'era un'altra uu revolver dove minchia? perché ti ho sentito zio? e che inquietudine di caricarla uu revolver zio ti ho sentito esci fuori dai veniamolo qui cioè non so neanche a lottare mica che è lag si io ho sentito qualcuno vicinissimo a me ma beh vabbè i vicini vicini non te li ho visti io già te scende però vabbè ma c'era uno di fronte alla casa mia ma c'era un altro ho sentito i passi sto diventando pazzo mi schieno il tipo che ha scavalcato per venire da me non aveva armi io l'ho ucciso brutalmente a freddo ehi ciammo il tipo mi sta ancora guardando là può non essere un allentatore tipo il tipo pensa che sia ancora in quella casa subito a fotterlo cioè crede che sia ancora ancora in casa bella tu sei lontanino dalla zona mi sa vabbè non molto più lontano di me l'ho ucciso con un troppo la testa non si so adescare in sto posto a sta casa non ha un piano di sopra che schifo il penitore l'ho presa da lui ma è forte sto dp28 quello ancora non ho capito ma quella è la cusate 62 che c'è il caricatore sopra eh non lo so mi sa di sì cioè dovrebbe è come le altre armi se le suzate sono tutte furti compresa la bares no io mi tengo questa cioè non me la prendo un'arma che non so usare vedete c'è Carlino che starà bestemmiando perché cos'è probabilmente non l'ha mai vista l'arma è tipo wow oh my god dove voglio poter usare no del tipo perché non la stai prendendo ma io non la prendo perché non la sa usare dovevo get up in the game può essere il king della zona dai anch'io vabbè io ci ho messo un po' di meno vediamo se mi serve qualcos'altro il caricatore è steso ce l'ho già essenzialmente preferisco quello rapido come lo ricarico più in fretta in effetti che poi è molto più in fretta quindi cioè dipende con i mitra meglio steso dipende a che mitra l'OMP 30 colpi bastano però tipo micro uzi che ne ha 25 è Vector che ne ha 13 se non ammazzi qualcuno con 30 colpi di fucile è un po' peggio eh che rapido è steso quattro munizioni no ho steso mitra ho appena detto merda eh ce l'ho messo ho già lottato tutto qua non dirmelo non ne metto il livello perché non l'ho appreso caricatore rapido ce l'ho già è tutto il test revolver voi volete che in gioco 7.62 io ho 7.62 eh niente io devo venire in zona vero eh eh quanta cazzo è lontana cerca una macchina io però devo cercare di sopravvivere qua ho trovato la moto devo aspettare che finisca la zona esplosiva ti vengo a prendere con la moto se vuoi allora devo ancora lottare queste case sai se c'è gente vicino a te no non credo ti dispiace se mi fermo un attimo a lottore ma fai cura cerca una roba intanto oh ho già lottato cazzo eh non è riuscito di casa per sbaglio merda dai vieni non vi lottareste le case che ho segnato ah non le lottate ancora no quelle l'hanno comunque c'era qualcuno vicino a te ah ok c'erano le case poco prima di te che sono gio lottate ah uh zeno livello 3 uh m416 anche io ho trovato va che te lo potevo portare uno ma non me l'hai detto ah vabbè ciao AK è stato un piacere giocare con te non è vero cazzo però là c'era un attachment dov'era guardate che siamo in moto ci conviene andare prima eh ma un attachment eccolo paragon molto meglio aspetta cosa vuoi che c'è quello verticale ok impugnatura d'angolo dai ma se no attachment che non ti servono di mma ma qua sono già sits attraverso e' proverso il colore o io tipo ho trovato un calcio no vabbì no vabbè no fanculo via 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 ehm andiamo ehm ma vabbè ovabbè perché hai lasciato la molotov cacchio però ero pieno di quel piede dell'ak vabbè niente ak addio non è che la zona sto cercando di capire dove è la zona per questo senso ora che ci sto pensando ma questo moto non le entro marcia me ne sono accolto ora non ci ho mai pensato tranquillo io so guidare a differenza di qualcuno che ci sta seguendo da casa lo sai che se miri dietro puoi vedere le tue spalle sg di visuale vedi il tuo collo e la tua testa che non c'è per questo se riesco a vedere la mia testa si la vedo siamo a 130 wow c'è una mano staccata dal corpo quanto è veloce sta moto ci fermiamo qua fermiamoci alla zona l'ultimo al volo qua tanto la zona è vicinissima cazzo cosa? no niente che avevo premuto shift w e mi ha cambiato di pozzo in avanti ok io vado a cercare cura ne ho trovato due perfetto io medikit ne ho però non ho quelle boosters anche a me mancano i boosters oh guarda c'è un altro moto là io sono solamente medikit come pure cazzo mi servono booster se non ce ne sono questo che sotto di merda ce ne ha sei già nella zona la zona è lontanino merda volevo finire di lottare qua ma c'è una minchia c'è una pia di booster io sto già inizio a andare a correre perché in tre minuti vado a prendere la macchina la moto eh quindi ci arriviamo non ci fermiamo troppo ah ci arriviamo tranquillamente a piedi vabbè no mi devo curare ora un'altra moto c'è qua per strada vabbè un'altra moto c'è qua per strada ok no ce l'ho io qua così non devi stare dentro la zona troppo tempo fare la manovra questo coppia è piena di benzina vabbè 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 oh è morto ma che cazzo ho detto ma perché no non sparare non sparare non sparare andiamo stanno fermando no ma comunque una figata hai visto cosa ho fatto ho cambiato di posto sono si sono buttati in acqua sono andate a prendere il drop in acqua uh andiamo no mi sono incastrato qua io vado lassù l'ho beccato ho una moto d'acqua quella cosa non si capisce ma fanculo una moto d'acqua mi sembrava un drop era rosso merda la zona no fanculo da te avevo beccato pezzo di merda muri vieni finchia è precisissimo l'm4 con tutti gli attachment fini tranne il calcio ovviamente però freddo ho visto i miei occhi ma b c'è sveglia nel bugio bugio ah sono ancora quelli col motoscafo no ma è da solo lo so boh non lo so boh io ho sparato e mi ho colpito uno solo uno quindi se mi ho colpito solamente uno vuol dire che ce n'è uno oh c'è gente qua merda stai sentito a camminare ti pare una volta vicino oh cazzo entriamo qua si non è l'unica casa che è dentro la zona oh merda è aperta speriamo che non abbiamo camperato ah no palesemente è camperato scusate non dalle finestre non c'è nessuno dentro no quanto pare no stiamo qua capiamo la situazione oh un giubbotto non ce l'avevi no a livello 2 no oh lo avevi l'impugnatura verticale no c'è già due orizzontali vabbè mi manca solamente il calcio per l'M4 vediamo dove è la prossima zona andiamo nell'altra casa vieni 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 questo siamo quasi sicuri che è libero arrivando motos via 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 e via noi andiamo nell'altra casa sono fermati sono fermati occhio 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 stai giù stai giù vieni 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 pucciamo ora pucciamo ora pucciamo ora sei in questa casa con due piani hai due piani in tendie quella con il coso rosso la torre di avvistamento si io mi avvicino io eccolo merda m'ho ucciso purta neve non lo vedevo neanche oh puccia puccia destra ma dai mi hanno incertato io basta andiamo in css go non so più giocare no il mio caso era tipo la bocca la mascella sfraccicata sulla scatola vip ma più violenta galli beat eh vado a pucciare ok ok papa ok no Grazie per la visione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi è che io ho perso il rank. Se voi possiamo fare il matchmaking io non ho più il rank, non sono più global. E' da un casino che non gioco il matchmaking. Eh no. Se voi, se no facciamo Wingman. Mi invitami intanto. Quindi deciderei tu. Perché se facciamo Wingman poi non gioco più. Cioè non posso fare più matchmaking. Wingman? Wingman sarebbe braccio destro, non lo so come lo chiami tu. Ah scusa, io sono informato. Vai a chiamare poi sai giocare. Non conosco la nuova Dust2, non conosco Cobblestone, non conosco Train. Overpass è quella la... No, io conosco Mirage e basta. Cioè conosco bene Mirage. Però non ricordo i punti da nominare di nessuna. Quindi metti Dust2 che è la più facile. Ok. Quella più calcola qui. Dust2 è quella che conosco 100%. Ah la differenza non va bene. Ma se io non ho più il rank. Anco io. Vabbè. Gli ho libiti. Braccio destro. Ah eh aspetta. Carly ci sei ancora? Tipo al volo scrivimelo su YouTube. Da Wingman. Guardate Wingman è molto facile. È troppo easy. Che è così Carly. Mi prendo il tuo account. Prendo CSGO. Ti ho lo uso come Smurf. Così ti faccio bannare l'account per cheating. Ok. Mi sta con il mio padre connesso. Mi dice che il mio ping migliore è 260. In che stai laggando? Eh lo so. Perché si messo a cercare? Eh infatti ti sto dicendo. Prendo il tuo account. Mi prendo CSGO. Giusto per non farmi un altro account. Che non ne vuoi. Anche se mi... Boh. 10 secondi ci metterei. Non farmi un'altra email. Sinceramente. Eh sai qual è la tattica su Cobblestone? Quella piccola. Eds pezza. Ma funziona solo l'A o l'Ab? Perché tipo in train funziona solamente l'A. O solo l'Ab funziona bene. Meglio così perché l'abbia più facile. Eh carlì le casse due centesimi sono. Il punto è che sono un rank bassissimo quel lì che sfidiamo ora quindi... Vabbè tu spacchi o no? Perché c'ho la sensibilità così alta? Sono tantissimo. Oh zio vieni qua vieni qua ti spiego ti spiego vieni qua vieni qua. Tu mi boosti qua. Ani in serrano vieni qua e ti crouchi così ok? Mi fai stare sull'albero. Mi abbassò la sensibilità. Non posso questo è troppo alta. Non backerei mai nessuno. Ma quanto la tieni? No di normale la tenevo bassissimo ma adesso era un'altra. Tu quanto ce l'hai? 30 t 0.3. Io ce l'ho 400 dp del mouse E qua lo tengo a 1.42. Eh sono scarsissimi comunque questi eh. Ho voglia. Uno sì l'altro non tanto. No tutti e due. Ah ok. Ma tipo scarsi eh. Ho messo tu figlio mio? Sì. Ah ecco mi è che da l'altro. Ah anche simpatico. Beh. Pronto a vincerezzo? Come che si? Con Francesco si. No. Qua che busto no? Eh aspetta non adesso. Prossimo il prossimo. Oh. Aspetta ma bene spari con questo gioco. Cosa vuol dire? Eh. Mila e me ali. Eh eh. Allora. Eh no. E che cazzo tu ti ho qua sopra? Devo avere una mila per i ciliali. Qua. Eh? Oh ma che cazzo. Oh perché no? Non è. Eh. Shot. Eh uno è metà HP l'altro è 27. Oh uno è sceso. Una qua sotto. Ok. L'altro è tutto tu. È sul site site. No. Vi è andato il mouse fuori dalla scrivania. Ma che cazzo. Ok ho ancora bisogno di più spazio. Zero mouse fuori dalla scrivania. Tu compri qualcosa. Beh? Io faccio full. Boh no so. Comprò qualcosa. Io faccio full. Tanto win va anche al cazzate na fraga. Vado di full ecco io. Tu sto? Aspetta. No no vai throw. Vai drop. Vai drop. Ok ok. Son droppa. Sì. Uno è qua dietro. Vuoi uno. un altro è drop aspetta l'ho sentito a drop ecco buono bella ho l'ak lo vuoi? ah c'è anche tu carlica non sto vincendo ma ti posso fare danno mi sa di sì è un casino che non gioca CSGO merda boost flash ahia è uno ancora boost si chiama drop drop, boost mi ha girato coltello da sventramento dopo il gram vado di EVP aggressivissimo cattivissimo ma ti ho dropato la k ah vabbè ormai oh cosa? 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 eh ninja e con cosa stava sparando quello latte scusa? col negav minchia col nuovo negav che gli si ti brucia davvero? è forte? ti boosto drop ok no tira una molotov molotov ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io ahia vieni oh uh cosa hanno? un altro negev no lassù c'è eh c'era un galil volevo immagini ecco ecco eh sì sì ecco no basta scusca si sono arrisi che cazzo vieni chicken vieni chicken vieni chicken vieni qua vieni qua stiamo qua stiamo tutti e due qua aspetta fammi salire su di te ok alzati anzi no non alzarti stiamo qua vai più dietro vai dietro dall'altro vengo oh eccolo millo oh 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 vince 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 lui cosa rischiata eh ahahah ahahah như ahahah super hai una tecnica negativo ah drop commojo no Fungo angelo No scop, no scop Ma merda non ce l'ho fatta Cos'è stato qua? Minchia, volevo fare il no scop La spara a zio, la spara a zio Dirty boy RIP Ti troppo io Ti troppo io Bene Oh drop AAAAAAAH Drop L'hai preso di molly eh? Davvero? Si Dalla porta, dalla porta Si Ma dai, volevo fare in wallbang Oh l'hai preso, l'hai preso, l'hai preso Sinistra, sinistra Iiii, che... Iiii Oh 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 Qui a un certo punto mischini dai Ma che basta, basta Io non... Ehm... Ehm... Ex dea Ehm... 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 Merda L'altro sta girando E' così pochi colpi Non so se sta ancora brottando Eccolo te Ho provato a fare lo spray Non ce l'ho più Anzi ne uso no E' il numero limitato Sì Sono da comprare i spray Oh granata Merda Ma prima che qualcuno si trigger I costano 3 centesimi Minchia fa cagare la Negev One tap One tap One tap No Ecco dai Uno Ho vinto lui No non posso giri Cosa Se non hai in testa quello Chez Oh Ah 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 La lascio sto round Oh Per il coltello Però sento di vita lui Oh oh bello con la skin, è per quello che io non lo prendo, non c'è la skin guarda che mi tira la molotov dai l'ultima la fai tu ok? e io è drop comunque io sono abituato ai juki dove se tu spari mentre se mi salto funziona questo è bravo ma questo è bravo male l'avrei persa palesemente se fosse stato uno normale troppo easy squilter la ug questa si dai mi skin non è colpa lo cioè si è colpa lo perchè sono scarsi no? non si stava legionato y rostro il minus eh carly se vuoi non ho vinto edza eh non si E' collegare il telefono E' collegare il telefono Buci gang WPON WPON Ma sei tu che hai messo solo cobble sono cosa? Mh E' tu che hai messo solo cosa? Mh Guarda se c'è qualcuno in videochiamata Intercarlino Scars Uh ciao, ho uno spararmi socio Non ho armi Agno Ho intanto lo smerzato Uh, c'è uno qua sotto Ah se no, di che rank sono questi? Vediamo Dimmi che sono alti, dimmi che sono... no, non ho andato due ore Niente In che si è andato? Anzi invece Oh E' brava E' brava Lupo Mi sembra un account il suo Mi sembra un account smart Un camping Nooo Ma dove l'altro? Ma dove l'altro? Ma dove l'altro? Ah non si Cioè Ah non lo vedevo Era sul site Mh Ovviamente lo dovete aspettare la scopo Perché non compri ammature? Beh Per solito No L'armatura ti serve Oh 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 Vediamo se ho la skin No Come me No, io ho la skin quella carina invece Ah B C'è uno duco Di cosa ci vado? Pompone automatico? Ma si Ragazzo me ne avrei Dio dai Dai vado di Yorig Yorig Canne moz Allora Prima vado di Wanda Wanda Oh Yeah Dai Wanda E' drop Sta arrivando da te In basso a destra Ok ho capito Da Eh c'è Bello No che schifo, dammi lo Yorig di nuovo Buona Uff Vado CHZ vado CHZ? Che cazzo è CHZ? Quella al posto del tecnov Ah, sono tutti e due qua, non l'avevo visto No, l'ho sparato due volte What? Spare manualmente Mi ho mirato in testa